Sono Stefano Giaccaglia e sono responsabile del mercato Sud Europa per Aver Information Europe. Siamo presenti ad ISE per presentare la nostra linea di prodotti HVC di videoconferenza. Aver è presente sul mercato da più di 20 anni e quindi ha una lunga esperienza in termini di tecnologia audio e video. La nostra nuova linea di prodotti è principalmente orientata al mercato delle piccole e medie imprese e dell'educational. Questi sono i nostri principali obiettivi per quest'anno, sia per quanto riguarda l'Italia che principalmente Spagna e Portugal. Il prodotto Aver si caratterizza per una grande facilità d'uso e di installazione e da un rapporto qualità-prezzo che al momento non è eguagliato sul mercato. Queste caratteristiche fanno di un'offerta Aver la soluzione ideale per il mercato educational e per le medie imprese. Ormai il mercato della videoconferenza è entrato a far parte della conoscenza comune nella vita di tutti i giorni, per cui non abbiamo più necessità di spiegare agli utenti quali sono i vantaggi della videoconferenza. Quello che è necessario in questo momento è fornire ai clienti una soluzione fruibile, per cui fruibile sia in termini di facilità d'uso che di prezzo. Ed è per questo che Aver, a nostro avviso, rappresenta la soluzione ideale. Il prodotto che abbiamo qua in esposizione è il prodotto top di gamma che unisce alle qualità della videoconferenza in alta definizione 720p, altre caratteristiche come la possibilità di registrare il meeting direttamente su chiavetta USB e di rivederlo o su PC o direttamente sul sistema di videoconferenza, la possibilità di condividere immagini e presentazioni attraverso un'uscita supplementare e la possibilità di utilizzare una serie di applicazioni e di software ad-onc che utilizzano smartphone per la condivisione di immagini e filmati. Questo va ancora nella direzione di offrire al cliente una soluzione semplice da utilizzare e che ritrova nel suo modo di lavorare di tutti i giorni.